La benedizione dei fuochi del Palo di San Giuseppe a Paterno, 2017, con il parro Don Cibu. Ecco le miglie del Palo. Allora sta iniziando la festa, un bel Palo, della festa di San Giuseppe. E anche in abbinamento con la festa dei papà. Auguri a tutti i papà paternesi e di tutto il mondo. Viva San Giuseppe. E auguri anche a tutti i giuseppi. Allora caro amico Raffaele, cosa offrite di buono questa sera in occasione della festa di San Giuseppe? Allora questa sera ci saranno pasta e fagiole. Pasta e fagiole. E poi? La tradizione paternesa. Speriamo che la gente viene. Che la gente viene, che si partecipa e che la festa riesce. Con un buon bicchiere di vino anche. Un buon bicchiere bello fresco fresco di vino. Ma ci serve? Perché la riempie sticente. Eh sì, ci vuole proprio un buon bicchiere di vino. E un bel piatto di pasta e fagiole. E un piatto di pasta e fagiole. Alla paternesi. Alla paternesi. Va bene. Grazie e buona serata. Allora questo falò organizzato anche quest'anno dalla Prologo Terra dei Padri di Paterni. C'è qui la Presidente Professoressa Rosa Fortunato. Che vuol dire qualche cosa al riguardo di questa festa? Grazie. Sì, questa è una festa molto tradizionale. Da secoli nei rioni paternesi si faceva il falò in onore di San Giuseppe. Noi manteniamo questa tradizione cercando appunto di raccogliere intorno al fuoco quante più persone possibili per mantenere appunto la tradizione del falò di San Giuseppe. Anche questa sera che fa un po' freddo e chi vuole provi un po' di fuoco. Va bene, infatti. Va bene, grazie. Grazie a te. Ha preso fuoco. Ma io auguro una buona serata a tutti quelli che interverranno a questa bella manifestazione. Per stare anche un po' caldo vicino a questo bellissimo fuoco. Grazie. E partecipate numerosi. Almeno noi paternesi. Auguri e arrivederci al prossimo anno. Con la terra dei padri che organizza questa bellissima manifestazione e non gioia. Mario. Ciao Giovanni. Ciao. Ciao. Tutto a posto? Sì, tutto a posto. Tu? Eh, insomma, così così. Buon divertimento. Grazie, anche a te. Buona serata. Ciao. Ciao. Tutto a posto. Non lo so. E auguri a tutto lo staff della Proloco Terra dei Padri di Paterno. Che sia un'ottima festa. Di nuovo auguri e buona festa di San Giuseppe 2017. E anche un auguri a tutti i papà di tutto il mondo. Da parte di Mario Russo, il famoso Buccinese di Paterno. Oppure il Paternese di Paterno. Di Buccinese. Grazie.